cari amici sono monica benvenuti nel mio canale come state allora come gestire il contatto con un narcisista dopo che abbiamo scoperto il narcisista dobbiamo determinare con quale grado di contatto ci vogliamo relazionare con lui o con lei noi sappiamo che il narcisista è una persona che non cambia e che i suoi comportamenti ci possono danneggiare relazionarci con una persona che è dannosa per noi è un'insensatezza non dovremmo permanere in una situazione che non è buona per noi dopo che hai scoperto un narcisista dovresti sederti a pensare a cosa fare ora cosa vuoi condividere con questa persona o vuoi se vuoi invece escludere questa persona dalla tua vita questo è un tema un po controverso perché molti molti professionisti raccomandano di usare il contatto zero con tutte le persone che sono narcisiste la mia opinione è che questa sicuramente la via migliore per gestire una relazione con un narcisista è meglio eliminarlo completamente dalla tua vita per il tuo bene ci sono tanti narcisisti ai nostri giorni e la mia esperienza mi insegna che più conosco il narcisismo e più narcisisti scoprono la mia vita ci sono persone narcisiste che non puoi eliminare così facilmente applicare il contatto zero ci sono dei narcisisti con cui non possiamo applicare il contatto zero perché siamo obbligati a relazionarci con loro ad esempio in caso di divorzi o se abbiamo la custodia in comune dei figli oppure potrebbero essere dei nostri colleghi di lavoro oppure perché questa persona è parte di un'organizzazione a cui anche tu appartieni non sempre è possibile applicare il contatto zero con tutte le persone narcisiste nella nostra vita se eliminassimo tutte le relazioni con le persone narcisiste potremmo rischiare di ritrovarci isolati dal mondo ci sono narcisisti in tutti i luoghi deve cambiare il modo in cui gestiamo il contatto con le persone narcisiste la situazione ideale sarebbe non avere narcisisti nella nostra vita ma purtroppo non è sempre possibile perché narcisisti sono sempre in aumento nella nostra società la cosa migliore rimane il contatto zero ma se non ne hai la possibilità se ritieni di dover approcciare la relazione in un altro modo questa è la tua decisione a tua discrezione applica il contatto limitato cioè limitati nella comunicazione alle informazioni strettamente necessarie tutte le persone hanno un sistema di valori unico ci sono persone che tagliano la relazione senza sensi di colpa altre invece che hanno dei dubbi gestisci la relazione la relazione con ciascun narcisista con saggezza in base al grado di tossicità ci sono dei criteri che vorrei condividere con te allora il primo criterio è quanto è tossica questa relazione se questa relazione altamente tossica e ha molto potere su di te e ti mantiene in uno stato di negatività costante se in questa relazione non vengono rispettati i tuoi diritti o se diventi una persona diversa da come sei veramente a maggiore tossicità maggiore distanza cerca di non avere contatti con qualcuno che ti fa diventare la persona che non sei o che ti fa andare in una direzione che non è corretta per te quindi il grado di tossicità di una relazione ti indica quale distanza devi avere con quella persona narcisista il secondo criterio è il contatto con questa persona è obbligatorio oppure no a volte non siamo obbligati ad avere dei contatti con certe persone ma siamo noi che sentiamo un obbligo a portare avanti questa relazione il terzo criterio è quali sono i miei desideri in questa relazione potresti essere tu a sentirti obbligato ad esempio se i tuoi genitori sono narcisisti potresti non desiderare più di frequentarli tagliare questa relazione però potrebbe causarti dei sensi di colpa il tuo desiderio deve essere sano e non un obbligo concentrati quindi sui desideri sani il quarto criterio è che cosa sei disposto a tollerare se la persona narcisista ti maltratta fisicamente o è una persona perversa e sadica saresti veramente disposto a tollerare la presenza di questa persona vicino a te o alle persone che ami devi determinare che cosa sei disposto a tollerare osserva il comportamento del narcisista e determina che cosa sei disposto a tollerare io ad esempio non tollero la mancanza di rispetto se non mi rispettano taglio la relazione immediatamente oppure applico il contatto limitato dimmi che cosa ne pensi ti sei mai trovato in questa situazione ti hai mai avuto questi dubbi io mi fermo qui se vuoi iscriviti al canale metti un like condividi il video con i tuoi amici e lasciami pure i tuoi commenti dimmi che cosa ne pensi noi ci vediamo al prossimo video ciao ti ringrazio per avermi ascoltato ciao 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 ciao